Buona domenica, buon caffè e buon caffè alla ministra dell'interno Luciana Lamorgese che prende il caffè con noi questa mattina. Buona domenica ministro. Buongiorno, buongiorno a lei, buona domenica. Allora, c'è grande attesa per questa Pasqua e per i colori che cambieranno. Le chiedo quali misure sta prendendo lei e il suo ministero per da un lato far sì che tutto proceda con regolarità e dall'altro che però sia comunque una Pasqua. Lei ha detto in un'intervista che i controlli saranno scrupolosi ma umani. In che senso? Nel senso che gli italiani ovviamente in questo momento, e parlo soprattutto per i giovani, hanno grandi segnali di stanchezza. Capisco quanto sia difficile chiedere di fare ulteriori sacrifici ma ritengo anche che questo non è il momento di morliare. Anzi, direi addirittura che serve uno scatto in più proprio nella direzione di una maggiore responsabilità individuale perché la campagna di vaccinazione è entrata nella fase cruciale. Quindi secondo me noi dobbiamo vederla in positivo, però certo dobbiamo avere un grande senso di responsabilità. I controlli ci saranno, come ho detto, però c'è anche da dire che si stanno comportando gli italiani in maniera assolutamente responsabile. Basta dire che su 8 milioni di persone controllate e sanzionate sono 100 mila, quindi sono numeri abbastanza limitati. Non è questo il momento di mollare, di questo ne sono certa perché stiamo per far arretrare la diffusione del virus proprio grazie a questa campagna imponente di vaccini che credo proprio che nei prossimi giorni entrerà nel vivo. In che modo il suo ministero sarà coinvolto, se sarà coinvolto in questa campagna di vaccinazione? La campagna di vaccinazione prevede degli app dove poter fare le vaccinazioni il più possibili. Noi abbiamo dato disponibili delle strutture sia dei vigili del fuoco sia della Polizia di Stato proprio per garantire ulteriori luoghi dove poter vaccinare. Tra l'altro anche i medici della Polizia di Stato sono stati disponibili per effettuare le vaccinazioni e poi ci sta la parte dei controlli che è una parte più tipica proprio nostra come sicurezza. Ecco, a proposito dei disagi di cui lei parlava all'inizio, è chiaro che siamo tutti molto stanchi dopo un anno di stop and go, di lockdown. I disagi maggiori si registrano tra le persone fragili, gli anziani, ma anche tra i giovani. Lei faceva giustamente accenno ai ragazzi che non hanno più avuto un anno scolastico e una vita sociale normale. Tra l'altro dal Ministero dell'Istruzione arrivano anche segnali di disagio proprio degli studenti. L'Ordine degli Psicologi aveva segnalato anche un aumento al ricorso degli psicofarmaci. Le chiedo, come Ministero dell'Interno vi parlate con i Ministri dell'Istruzione e della Salute. Avete una fotografia di quel che è successo in questo anno anche in relazione per esempio all'aumento del consumo di opioidi, di droghe tra i ragazzi? Guardi, questo certamente noi ne parliamo anche in Consiglio dei Ministri perché lì è un momento un po' di sintesi delle nostre attività e anche per mettere sul tavolo i problemi che sono emersi. Certamente l'impatto negativo che la pandemia ha prodotto sui giovani è un tema sul quale dovremo confrontarci secondo me per molti anni ancora. Io infatti davvero ritengo che il Presidente Draghi abbia fatto benissimo a ribadire nel suo intervento al Senato che le prime riaperture dovranno riguardare la scuola. Non vanno trascurate certamente anche le attività sportive, sociali che permettono ai ragazzi di vivere anche giornate normali senza solitudine davanti ai computer perché purtroppo questo si sta realizzando. Quindi molto spesso stanno davanti ai computer e dobbiamo essere onesti durante un anno, è stato un anno complicato per tutti, ma ancora più per loro che i ragazzi sono abituati a incontrarsi, a socializzare e questo purtroppo non è avvenuto in quest'anno. Lo vediamo anche nei momenti di libertà che si hanno, lo vediamo anche negli assembramenti che tante volte noi notiamo per le strade. E' quello il desiderio di stare insieme, di recuperare il tempo perso. C'erano stati quegli episodi di risse organizzate in tutte le città, è successo più volte a Roma, è successo a Napoli, è successo al nord. Io facevo riferimento a questi, quindi questo è il desiderio di socializzare ed è un dentro i ragazzi, ha detto, c'è una sorta di intofferenza, quindi anche quegli episodi, certamente alcuni sono stati strumentalizzati, ma dietro c'è questa voglia di tirare fuori tutta la rabbia che hanno dentro. E quindi secondo me è necessario un piano di ricostruzione, proprio generazionale, che lo Stato deve essere presente, ma certamente non si può fare a meno dell'apporto delle famiglie. Ecco, questo è un altro punto fondamentale. Certo, le famiglie che ci stanno ascoltando spero che siano appunto sensibili alla richiesta che lei fa, Ministro. C'è un altro aspetto di questo terribile anno di pandemia di cui lei si occupa come Ministro dell'Interno e sono gli appetiti che i 209 miliardi in arrivo con il Recovery Fund scatenano nelle organizzazioni criminali. Ecco, so che lei ha promosso dei protocolli di intesa col Ministero dell'Economia, con la SACE, con l'Agenzia delle Entrate. In che modo funzionano per verificare come l'Andrangheta, la Camorra, le organizzazioni criminali possono mettere le mani, per esempio su piccole aziende, ristoranti che non ce la fanno andare avanti. Il rischio è proprio quello in questo periodo, cioè che ci sia una possibilità per le mafie di inserirsi nel circuito anche delle risorse ingenti che ci sono in questo momento e che ci sono state nell'anno passato. Allora, proprio perché la mafia ha una capacità di adattamento, di pervasiva, opera come un welfare alternativo. Quindi entrare nelle maglie della criminalità organizzata è difficile poi uscirne. Quindi noi abbiamo cercato di far arrivare nell'immediatezza le risorse necessarie, però non rinunciando ai controlli. Abbiamo fatto dei conti dedicati dove far comprire queste risorse e quindi poi abbiamo fatto anche quelle che sono le nostre attività di controllo antimafia, però le abbiamo fatte in una maniera successiva, nel senso che con l'autocertificazione procedendo poi ai necessari controlli. Perché abbiamo ritenuto, ed è stata questa la via che ci ha, diciamo, la strada che abbiamo ritenuto di seguire tutti insieme, di far arrivare immediatamente le risorse, non rinunciando ai controlli sia pure in un momento successivo. Certo. Abbiamo analizzato due grossi problemi legati alla pandemia, a parte la questione vaccinazione, abbiamo visto i giovani, le scuole, abbiamo visto le infiltrazioni criminali. La pandemia ha messo un po' in ombra quello che fino a un anno fa sembrava una grande emergenza, l'immigrazione. Io so che proprio su questo tema, perché poi con la bella stagione riprenderanno in massa gli sbarchi, lei ha incontrato sia il collega Darmanen a Parigi, è stata in Grecia, incontrerà il ministro tedesco Sehofer. Quale collaborazione possiamo attenderci da Francia e Germania su questo tema? Io credo che certamente i nostri partner principali sono proprio il ministro francese e il ministro tedesco. Con loro ho rapporti continui, frequenti, perché per elaborare tutte le politiche europee, è a partire dalla politica sulla gestione dei prossimi migratori, è necessario lavorare insieme a loro. Però quello che io ho detto più volte, l'ho anche chiesto al ministro Darmanen quando sono andata a Parigi la scorsa settimana, che dirò a Sehofer quando andrò immediatamente dopo Pasqua, a che dobbiamo noi ripartire, agire in fretta, perché l'estate è vicino, l'anno scorso abbiamo avuto un periodo di grandi sbarchi, soprattutto dalla Tunisia, e quindi è necessario mettere a punto un meccanismo di solidarietà per la ricollocazione dei migranti, che però debba ripartire dall'accordo di Malta, quello che si glambo nel settembre 2019. E con questo voglio dire che dobbiamo fare riferimento proprio a quella intesa, perché quell'intesa che se ne dica è stata molto importante, perché ha fatto sì che una parte di paesi, certamente non tutti i paesi, 27 paesi europei, perché altrimenti avremmo risolto il problema, ricordiamoci che ci stanno sempre il blocco Visegrad, che non ritiene assolutamente di prendere neanche uno, però molti paesi, almeno 9-10, hanno aiutato l'Italia e hanno dato delle quote per la ricollocazione. Che cosa voleva dire? Che quando il migrante arrivava in Italia o a Malta, a quel punto si facevano i necessari controlli di sicurezza sanitaria, dopodiché andavano, venivano distribuiti e tutta la procedura era in carico a quei paesi. Quindi se avevano diritto all'asilo, se c'era bisogno di fare il rimpatrio, erano tutte una serie di attività che oggi facciamo noi, perché dopo il periodo di pandemia, dopo il lockdown, si è bloccato purtroppo questo meccanismo. E quindi adesso bisogna rinnescarlo. Poi tra l'altro il 6 aprile il presidente del Consiglio Draghi andrà in Libia e anche lì credo che si parlerà di questo tema. Ministro, io le ho fatto un elenco di problematiche serie. Vogliamo chiudere dando, non dico una certezza, ma almeno una speranza, a chi ci segue, il ministro della Salute e anche altre fonti sostengono che per l'estate potremo quasi tornare alla normalità. Lo crede anche lei? Guardi, dipende ovviamente dalla campagna di vaccinazioni. Io sono molto fiduciosa perché vedo che le dosi di vaccino stanno arrivando, c'è stata una presa di posizione netta da parte del nostro presidente del Consiglio, quindi se devo vedere le dosi in arrivo, le regioni che speriamo adesso si diano tutte delle regole uniche. Io sono sempre, per carattere lo sono, ma in questo caso il fatto di vedere è positivo perché vedo che sta prendendo una buona piega la campagna di vaccinazioni e che anch'io mi sono ieri proprio segnalata alla regione Lazio per fare bisogno iscritta nelle liste di prenotazione perché era il mio momento e allora a quel punto... Quale vaccino verrà utilizzato? Quale vaccino verrà utilizzato per lei, ministro? Lo sa già? No, non lo so perché io mi sono iscritta, adesso mi arriverà, mi dicono che immediatamente dopo dovrebbe arrivare il tipo di vaccino e qual è la prenotazione, dove lo dovrò fare. Io ho individuato una struttura perché mi sembrava che potesse essere una struttura tra quelle riportate e quindi io per me guardi qualunque tipo di vaccino va bene, dall'AstraZeneca al Pfizer, al Moderna e così agli altri. Quindi l'importante è vaccinarsi. L'importante è vaccinarsi e questo credo che sia un buon proposito per tutti quelli. Nel Lazio le vaccinazioni stanno funzionando, speriamo che funzionino bene anche nelle regioni che hanno più difficoltà. Grazie ministro Lamorgese per aver preso il caffè della domenica con noi e speriamo che sia questa settimana che ci porta alla Pasqua una settimana di senso e di responsabilità per tutti. Grazie, buona domenica. Grazie a lei, buona domenica e buona Pasqua. Buona Pasqua, grazie.